In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato è protagonista di un convegno nazionale che ha visto diversi attori, moderati dal capo della mobile Danilo Di Laura, confrontarsi sul contrasto alla violenza di genere alla presenza degli studenti delle superiori e degli studenti di psicologia dell'Ateneo. Relatori qualificati appartenenti alla Polizia, ma anche il PM Roberta Davoglio, che ha sottolineato come l'Italia come legislazione sia avanti rispetto ad altri paesi come prevenzione e strumenti, ma ha ribadito che è essenziale che le donne denunciino, invece troppo spesso le denunce vengono ritirate. L'Aquila, tutto sommato con i dati sul femminicidio, è considerata un'isola felice, si è riusciti a contenere il fenomeno, seppur i dati a livello nazionale siano preoccupanti. Si è parlato della legge sul codice rosso, scandaiati anche gli aspetti psicologici della donna vittima, che spesso non riesce a staccarsi da questi soggetti violenti. Gli interventi della magistratura, ma più che altro dello Stato a livello del legislatore, stanno aiutando le forze dell'ordine e le procure ad intervenire, soprattutto nelle fasi iniziali, quando ci sono dei campanelli d'allarme. Campanelli d'allarme che sempre più spesso venivano trascurati e quindi si arrivava poi all'epilogo quello del cosiddetto femminicidio. Noi qui, quest'oggi, qui alla sala dell'emiciclo della regione, cui ringraziamo per l'ospitalità come quest'ora, stiamo organizzando proprio un convegno, questo non è amore, proprio per contrastare le verenze di genere. Un fenomeno che anche l'Aquila subisce come spaccato della società italiana, ma come quest'ora dell'Aquila siamo felici di poter dire, abbiamo già dichiarato, insomma che tramite l'attività del 113, che ha più di una linea attiva e l'implementazione tecnologica del 113 e delle volanti che poi intervengono di fatto all'interno delle abitazioni, insomma dove accadono questi episodi, si è riusciti finora, speriamo sempre meglio, ad arginare il fenomeno e quantomeno ostacolare che il fenomeno arrivi nelle fasi più critiche, ovvero il femminicidio. Grazie.